a vedere tante volte trova Alessandro il numero 4 bene, giù trova il numero 11 benissimo, giù trova il numero 20 giù questo esercizio va fatto chiedendo di alzare tanti numeri differenti esercizio dei numeri cugini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 giù 7 e 17 giù 8 giù 9 9 più 10 esercizio aggiungo le quantità sollevo quantità 2 aggiungo quantità 3 arrivo a arrivo a aggiungo quantità 2 arrivo a 7 aggiungo quantità 2 arrivo a 9 aggiungo quantità 2 aggiungo quantità 2 arrivo a 10 11 bravissimi aggiungo quantità 4 arrivo a 15 aggiungo quantità 5 aggiungo quantità 5 benissimo di direzione di direzione da riportare tante volte valido 1 3 2 3 4 5 4 4 6 7 8 9 10 7 ok 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 18 18 19 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 25